E se Lady Gossip vi rivelasse che la realtà va ben oltre ogni fantasia? Tenetevi forte, contenuto otti in arrivo. Sofì Codegoni e Alessandro Basciano tornano al centro dell'attenzione, ma questa volta non per loro scelta, emerge un misterioso indizio che getta un'ombra di incertezza sulla loro relazione e oltre. Il mistero che circonda la loro storia d'amore si infittisce sempre di più, e l'esperta di Yanira Marzano è di nuovo in prima linea per riportare tutti i dettagli del gossip. La scintilla del gossip è stata innescata da un messaggio anonimo arrivato in redazione. Questo messaggio suggerisce che la madre di Sofì potrebbe aver bloccato Alessandro, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Recentemente, si è anche parlato del motivo scatenante della presunta crisi tra i due, che sono diventati genitori della piccola Celine Blu. Siete curiosi di scoprirlo? Iscrivetevi al canale Lady Gossip per scoprire tutti i dettagli e attivate la campanella. Secondo alcune indiscrezioni online, i contrasti tra Sofì e Alessandro sarebbero iniziati quando a Sofì si è presentata un'opportunità televisiva imperdibile. Sembra che tutto fosse pronto, incluso un contratto e la gestione da parte degli agenti, per farla partecipare alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi. Tuttavia, Alessandro sarebbe rimasto contrariato, ritenendo che non fosse il momento giusto per separarsi, specialmente ora che erano diventati genitori. La nascita di Celine Blu rappresentava un momento delicato, quello in cui si sta formando il legame madre-figlia. Nonostante ciò, sembra che la situazione si sia poi risolta, con Sofì e Alessandro che sono apparsi insieme, felici e sorridenti e un «ti amo» apparso sui social, sembrava essere tornato il sereno e invece. Il messaggio anonimo solleva interrogativi sulla situazione attuale della coppia. Come l'utente anonimo ha ottenuto questa informazione rimane un mistero, dato che di solito è visibile solo attraverso i profili degli interessati e non dall'esterno. Ciò significa che queste fonti sono molto vicine alla coppia e secondo noi non è finita qui. Grazie per essere stati con noi.